benvenuti su clodiomasci.com in questo video andremo a vedere come cambiare il carattere predefinito utilizzato su uno smartphone android nell'esempio sto utilizzando un samsung galaxy s20 quindi le impostazioni potrebbero essere diverse in base al dispositivo generalmente per i samsung le impostazioni sono simili a quelle che vedete per modelli di altre marche invece potreste trovare il menu leggermente diverso i nomi delle impostazioni, le voci leggermente diverse comunque seguendo la guida dovreste riuscire ad ottenere lo stesso risultato anche con uno smartphone diverso quindi la prima cosa da fare è andare nelle impostazioni del telefono andare a scorrere le impostazioni fino a trovare la voce schermo da qui scorriamo e cerchiamo stile e dimensioni carattere qui avremo tre impostazioni partiamo da quella più semplice ed è dimensioni caratteri quindi l'ultima voce ci permette di aumentare o ridurre le dimensioni dei caratteri ovviamente impostandola ad esempio al massimo avremo tutti i caratteri con una scritta ovviamente più grande con una dimensione più grande in questo modo saranno più leggibili quindi se magari avete difficoltà nel leggere i caratteri potete aumentarne le dimensioni e renderli quindi più leggibili in alternativa ovviamente possiamo andare sull'impostazione minima seconda scelta è la possibilità di impostare un carattere grassetto quindi attiviamo e disattiviamo il grassetto magari si nota un po' di più con i caratteri con le dimensioni più grandi e andiamo ora sulla voce che ci interessa stile e carattere quindi tocchiamo la voce stile e carattere da qui abbiamo per il momento almeno nel mio caso quindi per samsung abbiamo tre voci predefinito samsung one e gothic bold questi sono i tre caratteri che abbiamo già preinstallati quindi ad esempio se io andassi a scegliere gothic bold tutti i caratteri del mio smartphone andranno ad utilizzare gothic bold se scegliessi samsung one verrebbe utilizzato samsung one predefinito verrebbe utilizzato quello predefinito che credo che sia samsung one in realtà sono diversi però probabilmente è un altro carattere non saprei dirlo comunque andiamo su scarica caratteri da qui possiamo quindi andarci a scaricare i caratteri che vogliamo utilizzare molto importante fate attenzione perché alcuni caratteri sono a pagamento ci sono quelli ovviamente gratuiti e quelli che in genere mi sembra di vedere che il costo dei caratteri sia a giri sull'euro e sessanta quindi un euro e sessanta un euro e cinquanta carattere nel nostro caso non ci interessa andare a acquistare un carattere quindi vedremo solo quelli gratuiti in alto abbiamo la possibilità di filtrarli quindi abbiamo la scelta tra migliori più richieste a pagamento questi ovviamente sono quelli solo a pagamento più richieste gratuite e gli ultimi aggiunti ritorniamo su migliori e scarichiamo uno dei caratteri samsung ad esempio potrei scaricare rosemary quindi selezioniamo rosemary qui possiamo provarlo vedere un campione o in basso toccare direttamente la voce installa quindi andiamo ad installarlo ci consiglia altre applicazioni che possiamo andare a scaricare tocchiamo la x a questo punto possiamo o applicarlo direttamente o disinstallarlo ma per il momento torniamo indietro mandiamo su stile carattere vediamo che adesso abbiamo un carattere in più nell'elenco dei caratteri che avevamo preimpostati quindi abbiamo rosemary lo possiamo selezionare e vediamo che adesso tutti i caratteri dello smartphone quindi tutti i caratteri delle app in generale delle impostazioni dello smartphone utilizzeranno come font predefinito rosemary un altro dettaglio relativo ovviamente ai caratteri è che anche ovviamente anche la tastiera andrà ad utilizzare il carattere quindi il font che abbiamo impostato quindi tutte le app tutte le impostazioni utilizzeranno il nostro nuovo font se poi per qualsiasi motivo non dovesse piacerci più volessimo cambiarlo ci basterà ritornare su stile e dimensioni carattere stile carattere da qui abbiamo l'elenco dei caratteri ritorniamo su predefinito e avremo nuovamente quello predefinito se non vogliamo neanche averlo più nella lista quindi vogliamo proprio rimuoverlo ritorniamo su scarica caratteri andiamo ad attivare mostre applicazioni installate perché altrimenti non ce lo mostra selezioniamo rosemary e lo possiamo disinstallare in questo modo lo rimuoviamo lo rimuoviamo completamente dallo smartphone ovviamente disattivando l'impostazione non lo vedremo più possiamo andare poi ad installare volendo anche più di un carattere e poi andarli a sceglierli fate molta attenzione ripeto al costo quindi assicuratevi che ci sia scritto gratis prima di andarlo a installare da qui lo potete vedere sotto al nome del carattere quindi trovate ad esempio guardiamo il secondo carattere rt suite piece vediamo che è sviluppato da monotype imaging e subito sotto c'è scritto che costa 1 euro e 63 se andiamo ad aprire qui lo vediamo meglio perché in basso non c'è installa ma c'è il costo mentre per quelli gratuiti troviamo direttamente la voce installa quindi vi consiglio di non cliccare non toccare la freccia qui per scaricarli ma di aprire quindi toccare la voce in questo modo siete assolutamente sicuri che il carattere che state andando a scaricare è gratuito perché troverete la voce installa e non il suo prezzo ultima cosa se per qualsiasi motivo non dovessi riuscire a trovare dove si trovano i caratteri dalle impostazioni generalmente in alto c'è una barra di ricerca prova a cercare carattere e dovresti trovare qualcosa come stile e dimensioni carattere e da qui puoi andare poi a modificarlo quindi nel caso in cui non dovessi trovare il menu partendo dalle impostazioni con la ricerca dovresti riuscire comunque a trovare l'impostazione giusta quindi per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale Grazie per la visione!